Nell'ambito delle iniziative della Scuola della Legalità istituita dall'Università di Teramo, gli studenti dell'Ateneo hanno incontrato Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone, un importante momento di riflessione a seguito anche della Giornata Nazionale della Legalità, che si commemora l'anniversario della strage di Capaci, 23 maggio 1992, dove morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Di Cillo, Antonio Montinari, Bito Schifani, per un giorno di memoria e solidarietà per tutte le vittime, innocenti, morte per lottare contro la mafia o che hanno perso la vita a causa e per mano delle organizzazioni malavitose, che troppo spesso vengono dimenticate e operano o muoiono in silenzio. Contro importanti, importanti per la testimonianza ma soprattutto per la memoria. Memoria non significa evento, non significa soltanto ricordo, memoria significa militanza. Quindi ricordare e portare avanti le idee di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e il fatto che la lotta alla mafia comincia nelle aule delle scuole elementari, continua nelle aule delle scuole medie e soprattutto all'università. Quindi attraverso la formazione, la ricerca, l'impegno quotidiano e l'essere cittadini consapevoli che ognuno di noi può dare il contributo alla lotta alla mafia. Ricordare a Giovanni Falcone non solo come al giudice antimafia, ma soprattutto come l'uomo che ha creduto nell'istituzione. Il tempo è breve ma cercherò di dare a questi ragazzi, che tra l'altro quando è nato Giovanni non erano ancora loro, quando Giovanni lavorava a Palermo loro non erano ancora nati, fare capire non solo cos'è la lotta alla mafia, ma chi era l'uomo Giovanni Falcone. Sì, è bello, di aule intitolate a Giovanni, di strade, di scuole ce ne sono tante e questo è l'omaggio di tutta l'Italia che ha sacrificato la propria vita nella lotta per la democrazia, non soltanto contro la mafia. Grazie. 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 Grazie.